Al complesso del Sant'Arcangelo abbiamo queste due sale prove altamente tecnologiche attrezzate addirittura di aria condizionata che sono a totale disposizione e gratuite dei ragazzi che vogliono provare e suonare. Quindi riattiviamo questo luogo storico che io credo sia un servizio di civiltà che un comune abbia una sala prove per i ragazzi. E sperimentiamo per questi mesi fino a Natale un abbinamento di musica e tecnologia. Quindi l'invito che faccio è sia ai ragazzi appassionati di musica ma anche a tutti quelli che vogliono provare i droni, le stampanti 3D, tutti questi temi tecnologici che l'associazione YES ci aiuterà a approfondire. Chi vuol provare a usufruire di queste due sale di registrazione come fa e come fa a seguire le attività del centro? Sì, abbiamo istituito una pagina Facebook Fab Lab Sant'Arcangelo, Casa della Musica e delle Tecnologie con un numero di telefono. E questi spazi sono aperti tutti i pomeriggi ma ci adattiamo all'utenza, se i ragazzi suonano di sera ci adattiamo anche con orari serali fino alle 23. Grazie 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 Grazie